capitolo 9 venezia 12 giugno 1545 il trambusto da basso mi fa saltare in piedi urla sedia capovolte qualcuno sale le scale di corsa a guanto il pugnale la porta si spalanca gli occhi terrorizzati di marco mi fissano che succede gran disgrazia signore terribile vuole ucciderla sono sicuro che vuole ucciderla lo sproloquio continua in veneziano non capisco niente che succede il mulo mio signore il mulo è di sotto con due dei suoi o vuole punire donna demente dio santissimo l'ammazza lo spingo fuori dalla stanza chi è il mulo tiene le puttane in calle de bottai dice che donna de metro gli ha rubato le ragazze il resto diventa incomprensibile scendo le scale nella taverna sembrano passati i lanzichenecchi tavoli ribaltati sedie spaccate le ragazze si stringono in un angolo terrorizzate tre uomini in piedi uno tiene un coltello alla gola di donna de metra cinque passi tra me e il più vicino trent'anni al massimo un bastone accuminato in mano il più grosso blocca donna de metra per i capelli la lama sulla pelle il terzo e sulla porta mi vedono il grosso dice qualcosa in veneziano faccia stolta assassina il capo quello con il bastone si fa sotto un colpo inesperto gli blocco il braccio e gli spacco il naso con una testata barcolla indietro sorpreso raccolgo il bastone guardo negli occhi il mulo e sputo per terra ghigna storto getta donna de metra sul pavimento e le grida qualcosa puntandole l'indice contro fa per avvicinarsi gli rompo il bastone sulla spalla e con il moncone lo colpisco allo stomaco si accuccia gli ho fatto male estraggo il pugnale e glielo infilo in una narice la testa bloccata per i capelli un'occhiata agli altri due le mani sul naso grondante fuori gioco il secondo sta già pensando di svignarsela lo dice il suo sguardo marco il ragazzo è dietro di me santi dio signore lo volete ammazzare digli che se lo rivedo da queste parti gli stacco la testa il ragazzo sbofonchia qualcosa in veneziano digli che se tocca donna de metra o una delle sue ragazze lo vado a cercare gli stacco la testa marco prende coraggio e ci mette la rabbia che mi manca spingo il mulo verso l'uscita l'ultimo slancio glielo dà un sonoro calcio nel culo i due compari si infilano dietro di lui donna de metra si alza sistemandosi il vestito e la conciatura vi ringrazio signore non potrò mai sdebitarmi per quello che avete fatto è sufficiente che mi diciate che ho picchiato donna de metra e saremo pari raccoglie una sedia mentre le ragazze la circondano d'attenzioni e marco le porge dell'acqua il mulo è il tenutario dei bordelli di calle de bottai e vi odia tanto si scioglie i capelli alcune delle ragazze che lavoravano per lui hanno deciso di venire con me non erano soddisfatte del trattamento che il mulo riservava loro paga scarse e cinghiate non so se capite annuisco posso immaginare non aveva l'aria del gentiluomo donna de metra sorride i gentiluomini possono fare anche di peggio signore mio ed è per questo che il vostro intervento di oggi non basta prevenire tutti i rischi del mestiere capisco finché ci sarò allora donna demetra spero vorrete accettare i miei servigi